sono il maestro unico vengo da crotone fatto la prima ora la seconda la cinese allo balsamo la terza arezzo facciamo silenzio può venire qualcuno a farsi interrogare ragazzi c'è qualcuno che vuoi venire? bozio? vuoi venire te? bosiatra? nemmeno te vuoi venire te o no mozzati nemmeno non vuoi venire nessuno oggi va bene via allora si spiega se da un punto passano infinite rette da due punti passa una retta sola la terza retta si salva o va in serie b non lo sapete vabbè io ce l'ho con te bosiatra cosa hai scritto nel compito in classe cosa hai scritto nel compito lo voglio sapere da te che c'è scritto qui cosa hai scritto cosa hai scritto cosa cosa hai scritto che cos'è l'orza maggiore la sorella tardona di Yogi lo devono sapere tutti vergogna io qui ti ci faccio morire bosiatra ti ci faccio morire in questa classe basta ciao 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 Grazie.